Buonasera Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuto Andrea Montagnani che è il nostro ospite di questa sera, benvenuto Andrea, che ha scritto un libro che si intitola Da 0 a 5 ed è i 0 e i 5 sono i primi 5 anni di vita dei cavalli, giusto? Assolutamente sì. E quindi la formazione etica del cavallo o del cavaliere che deve interagire con il cavallo? Diciamo tutti e due. Che cosa si intende per formazione etica del cavallo? Sì, si intende che è esattamente come un bambino, che dal momento della nascita fino a che diventa adulto è il momento più importante perché è lì che si forma il carattere. Noi vogliamo sempre vicino un compagno sereno, confidente, sicuro, ma questo significa avere un carattere ben strutturato. Esattamente come un bambino anche il puledro è nell'età evolutiva che forma il proprio carattere e quindi portarlo ad estrarre a due anni, a due anni e mezzo vuol dire aver buttato via il periodo più importante d'apprendimento del cavallo. Non soltanto dal punto di vista mentale, anche dal punto di vista fisico. Assolutamente sì, il titolo è un po' provocatorio, troppe volte cavalli a due anni e mezzo vengono già montati, i più recenti studi parlano di 5-6 anni, finisce anche di svilupparsi la colonna vertebrale. Sì, e la struttura, si chiudono le giunture delle ossa. Assolutamente. Sì, infatti un tempo, prima di 5 anni, un cavallo non veniva messo sugli ostacoli, vabbè, qui si aprirebbe un discorso lungo e complicato. Senti, prima di parlare del tuo libro, raccontaci un po' del luogo dove tu stai sperimentando tutto ciò, di cui credo stiamo vedendo le immagini, giusto? Sì, queste sono le immagini del nostro branco. Loise Quiluna è nato nel 2011, da un'idea di tanti amici che avevamo ai cavalli, di creare un unico grande branco e regalare al cavallo veramente una vita naturale, la più vicina possibile, purché in cattività, a quella che avrebbe vissuto naturalmente. Qui abbiamo attualmente 20 cavalli che vivono tutti insieme, sono tutti scalzi, li vedete qui nel video giocare, vivono in 6 ettari, non hanno nessun box, nessuna struttura chiusa, solo delle strutture aperte dove d'estate si vanno a riparare. D'inverno non li vediamo mai al riparo, non mettiamo coperte, non mettiamo nulla, sviluppano naturalmente il loro pelo. Se gli nasce il pelo, mettono il pelo d'inverno e stanno benissimo. Assolutamente, stanno bene. La cosa più interessante di tutto sono stati i vantaggi di questa gestione naturale. Non abbiamo mai avuto una colica, sparite le influenze, tutte quelle malattie tipiche che i proprietari dei cavalli riscontrano normalmente nella gestione in box, completamente azzerati. Sì, molto probabilmente proprio perché quando noi tosiamo i cavalli, lo si fa per ragioni pratiche nell'equitazione, per non dover passare troppo tempo a asciugarli, bla bla bla, conosciamo tutti. Però alla fine queste bestie, quando tu gli levi la coperta e gli impassi la brusca per mettergli il sottosella e la sella, si sono presi una bella botta di freddo sulla schiena. Assolutamente. E' come se noi ci togliessimo il cappotto all'aperto. O uguale di entro. E quindi è ovvio che sono molto più a rischio, no? Infatti in questo modo assolutamente. Se si torna da una passeggiata, si fanno un po' muovere in modo tale che asciugano. Si fa una bella passeggiata insieme per asciugare. E si rientra magari al passo insieme in modo che arriviamo già asciutti. Come si facevano moltissimo tempo fa. Senti Andrea, tu nel tuo libro fai una distinzione interessante tra la memoria emotiva e la memoria cognitiva nel cavallo. E mi pare di aver capito che quella emotiva è quella legata a esperienze che possono essere traumatiche, quindi negative. La vuoi spiegare meglio ai nostri? Sì, volentieri. La chiamiamo marcatura emozionale. Cosa accade? Ogni essere vivente, mammiferi soprattutto, dotato di una struttura cognitiva, perché il libro parla proprio che il cavallo è dotato di una mente esattamente come la nostra, razionale, senziente. E in fase di apprendimento, ogni volta che si apprende qualcosa, ogni fase di apprendimento è punteggiata da delle emozioni. Le emozioni possono essere piacevoli o spiacevoli e vengono agganciate al comportamento che viene appreso. Quasi sempre una doma troppo brusca, troppo veloce, si porta dietro marcature emozionali spiacevoli. Ed ecco che il comportamento appreso sarà per il cavallo dovuto e non più voluto, perché una cosa spiacevole raramente viene riespressa. Noi chiediamo al cavallo, per esempio, le andature, le vogliamo sempre fatte in un certo modo, ma se il momento di apprendimento dell'andatura è stato marcato spiacevolmente, quel cavallo non sarà più predisposto a rioffrire lo stesso comportamento. Quindi la formazione etica mira proprio in fase di apprendimento, una volta capiti quali sono la metodologia, il processo con cui il cavallo apprende, far sì che le emozioni in gioco siano sempre quelle piacevoli. Si parla di una marcatura positiva. In questo modo il cavallo sarà più propenso a riproporre il comportamento appreso. E comunque secondo te si può tornare indietro da un'esperienza traumatica? Assolutamente sì, faccio un piccolo esempio e se pensiamo alle vie neurali del cervello sono come dei sentieri su un prato. Se il sentiero è molto marcato perché ci passiamo sempre, lo vediamo che diventa sempre con meno erba. Se riusciamo a creare una nuova via alternativa e il cavallo incomincia a passare nella nuova via, piano piano nel vecchio sentiero ricresce l'erba e si copre. Esattamente quello che non so se tu sai succede con l'utilizzo della psicoterapia negli umani. Si creano dei nuovi circuiti sinaptici che piano piano fanno abbandonare il comportamento patologico. Assolutamente identico. Il meccanismo è identico. È assolutamente un problema, cioè è proprio una cura psicologica. Si creano nuove strade punteggiate da emozioni piacevoli in modo tale che il cavallo sia propenso a riproporre quel comportamento. Parlando della relazione, tu dici che la prima cosa che noi dobbiamo fare è riconoscere al cavallo la capacità di dialogare con noi, cioè essere attenti a quello che ci vuole comunicare e a come ce lo comunica. Anche qui ti chiedo di spiegare. Assolutamente. Credo che il cavallo, esattamente come noi, è un animale prosociale. È nato, cresciuto, la specie vive in branco, è abile socialmente, è abile nelle relazioni. Quindi sono convinto che un cavallo e soprattutto un puledro che abbia la possibilità di vivere in un branco all'arco della sua vita e crescere in un branco sviluppa quelle abilità sociali che saranno utili nella relazione con noi. Però anche noi dobbiamo sviluppare le abilità sociali per relazionarsi con lui e se non capiamo che lui utilizza principalmente il linguaggio del corpo e non il linguaggio verbale che utilizziamo noi e se non impariamo a leggere gli stati emotivi, le emozioni messe in gioco, piccoli segnali corporei, anche espressioni del naso, degli occhi, non solo quelli macro che tutti conosciamo, le orecchie, la coda, ma piccoli segnali, la respirazione, i movimenti della grassella e non riusciamo a interpretare il profilo emozionale correttamente, è lì che possiamo inficiare la relazione. La formazione etica mira proprio a fare quello che viene chiamato anche il ricalco, entrare nelle corde del cavallo, capire veramente in empatia cosa sta provando, vedere le emozioni messe in gioco in ogni circostanza e solo quando il profilo emozionale è positivo, passare a una fase di apprendimento e lì si costruisce la relazione. Mi piace usare una parola, è l'accreditamento. Se il cavallo sa che lo capisco, entro in empatia con lui, mi accredita, credita l'umano e riesce a fidarsi perché è nella sua natura. Quello che fa con un cavallo, un cavallo se lo aspetta anche nella relazione con gli umani. Già. Senti, noi invitiamo praticamente il cavallo a condividere con noi un'attività, cioè fare insieme le cose il fine di questa operazione, cioè non io che ti impongo di o che ti porto a, ma noi due insieme che. Esatto, è proprio questo, bravissima. L'equitazione etica cerca una collaborazione anche spontanea del cavallo. Lo vedremo poi chi leggerà il libro, anche nei video, che molto spesso anche posture fisiche, la distensione dell'incollatura, cose che gli servono al cavallo per stare bene in salute e portare il nostro peso, le possiamo ricercare prima spontaneamente, attraverso i processi cognitivi, di rinforzi cognitivi, eccetera. Si può far capire al cavallo come apprendere quelle posture e alla fine far sì che diventa naturale per lui collaborare con noi senza alcuna fatica. Credo che una delle migliori attività più vicine alla natura, alle motivazioni innate del cavallo, che ripeto è un animale prosociale, volto all'esplorazione, cerca gratificazione nell'esplorare, farsi le mappe del territorio, nel muoversi, possano per esempio essere le escursioni, delle grandi belle escursioni insieme, andare a scoprire il territorio, alle ricerche di nuovi pascoli, possa gratificare la coppia, non solo il cavaliere. Troppo spesso l'equitazione mirava a rendere felice il cavaliere, non guardando il cavallo cosa provava e cosa sentiva. Noi siamo orientati alla coppia, vorremmo che nell'attività di coppia entrambi gli elementi fossero gratificati nel svolgere attività. Tu mi pare che nel tuo libro giochi una sinergia quasi tra cognitivismo e comportamentismo, nel senso che da un lato ti rifai al meccanismo stimolo-risposta, ma dall'altro è quasi come se ritenessi che il cavallo può scegliere la risposta, può imparare a selezionare la risposta. Assolutamente, diciamo che le scienze cognitive, dimostrando che il cavallo ha una mente esattamente come la nostra, capace di pensare, ha capito che non poteva essere basato l'apprendimento solo sulla tria del stimolo. Su Pablo, doveva fare la breve. Esatto, assolutamente no. Ma qualunque stimolo percepisca dall'ambiente, non necessariamente prodotto dall'uomo, viene comunque elaborato dal suo mondo interno, filtrato dalle sue emozioni, ed il comportamento non è solo un'uscita di uno stato mentale. Allora, con la formazione etica miriamo a creare quegli stati mentali agganciati, marcati da emozioni piacevoli che porteranno al comportamento voluto. E quindi molto spesso noi premiamo il fatto che il cavallo è calmo, non necessariamente il comportamento, l'andatura o quello che ha fatto. Prima tanti stati mentali vengono premiati in modo tale che il cavallo ce li riproponga la calma, la fiducia, la serenità. I comportamenti ne sono una conseguenza. Senti, un'ultima domanda perché già qui cominciano a tampinarmi che siamo in chiusura. Tu parli di errori nella comunicazione, che è un problema, lo so, enorme, grossissimo, soprattutto da sella, soprattutto... Però in sin, proprio... Vai! Sì, allora, la comunicazione è veramente il problema delle coppie umane equino. Purtroppo perché abbiamo media diversi, noi utilizziamo la voce, sto parlando con te, i cavalli del verbale non sanno cosa farne, utilizzano il linguaggio del corpo. Nel libro affrontiamo bene la comunicazione proprio a 360 gradi. Comunicare vuol dire avere dei patti con il mio cavallo, sapere che un segno ha un significato preciso, con uno scopo preciso, e attraversa un canale preciso, un media dove passa. Il media è il linguaggio del corpo. Ogni segnale, il cavallo che apprende, deve capire il significato e sapere cosa fare di quel segno. Assolutamente un cavaliere inesperto può dare segnali confusi, però... Assolutamente. Quindi serve anche un'abilità tecnica di chi monta a cavallo, oltre che... Assolutamente. Se no il povero cavallo... Assolutamente. Io dico sempre ai miei allievi vorrei avere un bel simulatore, come simulatore di volo, fare mille ore, duemila ore di simulatore e poi andare vicino a un cavallo. Questa è la realtà, perché diventare bravi con il nostro corpo, un media che non usiamo molto bene, è il viaggio più difficile di tutta l'equitazione. Sapere dov'è la mia caviglia, il mio polpaccio, il mio tallone, le mie anche, le mie spalle... Come si usa il corpo. Come si usa il corpo e poi sapere che produce segnali che il cavallo può interpretare e se ne conosce il segno che produco, il significato, cosa voglio, la funzione di età pragmatica, ecco che tutto funziona. Però se io do gambe e tengo ferme le mani, il poveretto dice sei impennato, è per forza... Anch'io non so... È già una risposta, poverino. Bravissima, ci ha provato. È come accelerare e frenare in macchina. Ha provato, ha tentato di dare l'unica risposta possibile. I problemi comunicativi sono veramente quello che rende a volte difficile la comunicazione. Quello che forse dovrebbe stimolare noi cavalieri a imparare ad andare sempre meglio a cavallo. Assolutamente, investire tempo nella conoscenza del proprio corpo, nella propria eccezione, allenarsi a usare le varie parti del corpo e capire che il cavallo ha bisogno anche di un tempo per capire ogni segnale. Perché i segnali prodotti da noi sono lontani dal suo mondo. È pronto per farlo, cognitivamente lo può fare, ma noi siamo molto bravi nel non usare mai segnali contrastanti, per esempio, come hai detto tu nell'esempio precedente. Sì, mi pare che la Warkington, una del primetologo, diceva imparare ad imparare, cioè lasciargli il tempo di capire, perché non è mica detto, neanche noi poi capiamo sempre la prima botta. Assolutamente no. Quello che ha detto è bellissimo, imparare ad imparare, la metacognizione, un cavallo che mi ha accreditato e ogni fase di apprendimento è stata piacevole per lui, diventa sempre più bravo a imparare, sempre più veloce, perché allena e modifica sempre le sue conoscenze, ma in una ottica propositiva, attiva, e non invece di difesa. Troppe volte i cavalli li mandiamo in difesa perché comunichiamo male. Se non si sbaglia la comunicazione, di là dalla parte del cavallo abbiamo un animale prosociale, volenteroso nel collaborare con noi, perché lui collabora tutti i giorni nella vita sociale che fa. Pensiamo quando fanno grooming uno con l'altro a levarsi le mosche, è un atto sommestesico di collaborazione. Allora Andrea, io spero che tu possa venire presto a parlare ancora, anche perché questo libro è un libro impegnativo, quindi noi ne abbiamo sfiorate alcuni punti, ma insomma ci sarebbe stato molto altro da dire. Comunque io lo consiglio ai nostri lettori, Andrea Montagnani, da 0 a 5, la formazione etica del cavallo, eccolo qui. A te dire però dove lo possono ordinare questo libro. Assolutamente, ti ringrazio per avermi ospitato, il libro si trova anche su Amazon, su internet è disponibile, oppure sul sito equitazionetica.it e possibile ordinarlo direttamente online. Allora Andrea, benvenuto, buon lavoro e a presto. Grazie mille, è stato un vero piacere. Grazie a tutti. Buonasera ai nostri telespettatori, come sempre, ci vediamo la prossima settimana. Buonasera a tutti. Buonasera ai nostri telespettatori,